Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video. Sono Ivan e oggi siamo tornati su Minecraft. E da un bel po' che non registro un video di Minecraft. Il fatto sta che non mi ricordo nulla. Mi ricordo che eravamo arrivati qui. Sì, siamo arrivati qui. E niente. Mi ricordo che siamo arrivati qui e basta. Stiamo costruendo, sì. Me lo ricordo. Però, 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 che stavamo costruendo? Stavamo costruendo una bella casetta sottoterra. Quindi, quindi, continuiamo? Intanto non è che c'è molto a fare. Stavamo, devo ricordare il progetto perché non è che me lo ricordo molto. Diciamo che non me lo ricordo, quindi torno subito. Non posso do... Ahia. Allora, dove eravamo? Allora, qua l'abbiamo fatto, l'abbiamo fatto. Ora, allora, questa parte è sbagliata. Dovrebbe fermarsi tipo così, bam. Sì, è sbagliata perché questa parte dovrebbe essere fatteni via. Poi, non c'ho lo slab. Seriously? Non c'abbiamo slab. Ottimo. Non c'abbiamo slab, non c'abbiamo... Bello. Meplac. Facciamo una bella i crafting. Veloce, veloce. Yadam Gaddeno. Quindi roba inutile. Ma per essere distrutto, non mi ricordo dove ero rimasto. Quindi scusatemi ragazzi, ma devo riprendere tutto perché per me è come se fosse nuovo. Un nuovo salvataggio. Wait a moment. Ah, sì. Devo fare le slabettine. Vediamo a vedere se le possiamo fare. Ok, dovrebbe essere trucche. Mi sembra così. Pam, pam. Cisci, è così. Cisci, è un po' di merlux. Un po' brutto. Non mi sa che è così? Ok, sì, è così. Ora, cattiamo una bella pala. Allora, perché sì. Manager, tagliamo tutto qui. Ok. Wow, che bello. Spacchiamo anche qua. Se non è bisogno di spazio, è brutto o lo lasciamo qui? Ok. Andiamo, andiamo, andiamo. Fatto. Sì, qua dobbiamo finire. Doveva le slab? Ce l'abbiamo? Ma neanche ho usato le slab. Ce l'avamo le slab. Che stavano? Sì, quella c'è il betulla. Ah, me ne ho stato d'accordo. Ecco la crafting table. Tirandi, ma non sono un genio. No, non volevo fare questo, però. Ah, andiamo a prendere un po' di legno di betulla. Legno di betulla. La betulla. La betulla. Salveloce, pass. Andiamo. Andiamo. Ok, qua c'è ne ombre. No, continuiamo. Ma c'è la via o in diamante? No, c'è ancora in diamante l'arma. Bisogna da far qualcosa. C'è un po' inutile come va, giusto per fare qualcosa. Perché metterlo giusto anche nel video. Quando l'ho iniziata. Davide, vabbè. Qua facciamo attenzione, non cazzo. Lo sai che qua mi sono già fatto. Dai, 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 dai. Significo. Gli occhi di raffinati. Venite a me. Dopo di chi. Vediamo. Poi qua. Qua che facciamo? Allora. La betulla ce l'abbiamo. E anche... Ok, non creda troppa. Ehm, vabbè. Non volevo. Ma non penso che... Vediamo subito se basteranno così. Anche se ne dubito. Babbababete. Pio, pio, pio. Poi qua. Ok. Penso che non ho finito. Ora, dobbiamo dormire. Così, non troppo distante. Grazie. E... Allora. Siccome l'ho fatto con sto legno fantastico. Perché? Dovevo fare il resto di legno betulla. Quindi, top. Non volevo usare questo legno. Ti toccherà. Perché noi siamo contro i sprechi. Anche su Minecraft. Qua, vabbè. Qua, vabbè gli spredagli. E... Dovevo distruggere un po'... Un po' così. Mi va a prendere altro legno e... Da dove lo chiamo? Ah, qua come siamo messi col vetro. Uh, bello. Ma questa cosa è la... Si... Il blocco. Si è il blocco. Il blocco. Il blocco vuol dire... Il quartiere. Quello lì. I quartieri. Mi è venuta un po' napoletà. Un po' quartiere. Vole via i quartiere, ma... Mi è un po' un quartiere. Il blocco quartiere. Basta. C'è il monitor un po' schifo. Poi ci penseremo. Ci prendiamo tutto. Tutto il tutto. E niente. Ho droppato il cavolo. Ma what the hell? Ciao bro. Che mi vendi? Lui lo vedete, sai che... E c'è qualcos'altro? Scammer. Avevi aprirai il tuo... Il tuo webinar. Come scamare le persone. Schifo. Ma te te netto? Spremmiamo tutto. Tutto il tutto. Il chichi. Il solito non so quando lo vedrai. Ma spero il più possibile. Ok, ne ho preso un po' troppo effettivamente. Oh, ma le hai detto. Ma guarda sì che è bella bazzettina. Poi inutile ma sarà. Ma magari consigli e idee ragazzi. Non ho preso la sabbia. Ragazzi, scrivete nei commenti cosa ci posso mettere lì. Magari ho fatto un sano. Mario faccio diventare un zoo, un retro per animali, un retro per commercianti. Un retro, mai? Scrivete nei commenti quali sono le vostre idee. Che vi ascolto, che ascolto. Tembre e bertembre. Gli dimmi tutto. Vediamo qua, qua. Ne servirà ancora un bel po'. Ragazzi, vedete che non ho la mia serie. Perché mi deve ancora arrivare. Quindi non vi buffate. Spero che mi arrivi presto. Perché è molto scomodo stasera. Davvero tanto. Fin troppo scomodo. Ero un po' ragazzi che... Mi è esplosa la palla. Ottimo. Stavo scavando. Quanto ci abbiamo quasi uno stack. C'abbiamo 56 blocchi su 64 di uno stack. Quindi credo che vadano bene. Ecco, l'ho presa in troppa. Fin troppa. Una palettina ce la facciamo. Buttiamo gli assagrari. Il ceneritore. No! Spacco buttina Amazon. Spacco Amazon. Sto spaccando fin troppo. Cioè, sto facendo un po'. BAM 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 BAM. Penals. Nel'ora che ne abbiamo presa molto di... Sammai, bisogna sempre aumentare. Ok. Perfetto. Il pavimento ultimato. Allora. Mi serve la Glow Zone. Dovevo ritrovare quel mercante. Lo scambere. Anche se non sarei tanto. Però è uno sconto magari. Andiamo a parlare un po' con lui. Magari io premo una patata. Possiamo fare un po' di tutto? Si, potrebbe fare di tutto di... Yo bro. What's good to go. Come stai? Io voglio un po' di... Cavolo qua. Grazie. Pratico. Vai che mi rendi qualcosa scarpato. Cioè, non ho svolto tutto. Ho sentito una persona orribile. Ma orribile al cert... E niente. Allora io non funziona. Non basteranno mai. Ci proviamo. No! Non ci sarebbero bastati lo stesso. Uno vuole sprecare. Invece deve. Deve. Che trick. Uno mi sono buttato nel letto e la dormo. Beow get down. Torno subito. Ma vabbè. Vediamo quello che dobbiamo finire. Esatto. Qui dobbiamo fare così. Ma non ho cambiato la close. Però mi serve la... Mi servirebbe ora una... Un pezzo di scale. Mi servirebbe. Tanto so dove sono qui. Un po' di scale da qui. Un'altra scala. E via. Ma vedete che... Allora... Poi... Ci servono gli assi di più su... Eh, però qua ci dovrebbero essere... No. Lo so. Vai. Per il momento... La cosa qui... La craft table... Porca miseria. Via. Per fare una cosa un po' ambigua. No, ho sbagliato. Sì, siamo conto... Vabbè, sai che... Te ne fai a... Eh, via. Sono asciusi. Ci sa... Ok, dove essere un po' più grave, ma... Ora vediamo. Allora, ora bisogna... Ho sbagliato. Oh, ci ho quattro giusti giusti. Let's go. Spero che non cadiamo in acqua. Spero che non ci salga la... Ah, c'era la pala. Mi pegando uno è inutilmente. Ok, mi sto arrabbiando. Anche con il vetro... L'abbiamo finito... L'abbiamo finito il sopra della casa. Ci manca solo una parte. Aia. Manca troppo la parte. Un po' di... Allora, dove troviamo un rasti? Ci dobbiamo ne apprendere molta. Perciò... Dicò, aggessimo subito. Dopo andiamo a giornare all'altra... La roba che ci sta... Quelli di... Dormiamo. Dormiamo. Allora. Il legno nero. Il legno di... Dov'è? Qua. Ah, sì. Prendiamo prima qui. Vediamo se buzzino, ma non lo so. Per due. Odissimo, a vento. Ok, allora è molto più bello. Guardate che... Il legno... Cioè, so dove trovarlo, ma è l'unico. Tornare a casa, che non mi ricordo dove c'è casa mi... Eh, vabbè, facendo mettere... Allora, prendiamo il mio... Lo 0. Mmm... 51. Non bene di qua. Eh, sì, di cosa... Cioè, tanto non devo ad entrarci troppo. Basta che prendiamo il... Il legno quello scuro, nero, che piacerebbe. Eh, questa è quella... La missione di... Ricerchiamolo. Allora... Eh, di qua. Stiamo andando verso casa. Ne prendiamo un bel po'. Due stack. Che cazzo, perché a casa ce l'ho. E poi sono... Allineati. Ah, ma qua? Già sono pazzi. Ripassiamoci. Eh, no. Ce ne serviranno molti, ma molti di più. Ce ne siamo molto, molto, molto... Ehm, dopo di... Ciao, volpo... Volpo volpi. Unghiare, magari... Ok, io... Cioè, quasi... Potrebbe abbassare. Sai che non basterà bene la dita. Scaf, scaf, scaf. Ok, magari quelli di sospesi li lasciamo. O scappiamo. Eh, così non sa... Dai, prendiamo due stack. Due stack. Che ho preso anche volcosina di più. Stiamo questo rusce lì. Oddio, che spavento. Ho detto, che cavolo è sto rumore. Non ricorda. La cassa a merca. Tutto. Allora, ahia. Oh, shit. Meno male che non ho preso tanto perché me lo scordato di prendere. Meno male. Spamo. Spamo così. Transforming. Che però ora diventa brutta. Cassa, se la spav... Allora, eh... Ed il collo. Devo fare... La pescale, due scala. Un po' il giro. Un po' al volo. Eh, vabbè. Ho sbagliato, l'ho fatto un po'. No, ma cosa c'è che testo? No, ho un po'. Telecamera. Una grande persona. Ho sbagliato tutto. Dove essere... Allora, dovrebbe essere... Uno, due. Andiamo, mettiamoci a luogo tutto. Di posto. Non mi interessa. Non mi interessa nulla. I sgoski. I sgoski marinoski. Ok. Ok, qua ci siamo. Adesso ci siamo. Ok, allora. Questa parte... Poi qua... Ah, qua dobbiamo finire. Eccolo. Ecco qua. Ci siamo. Allora, bisogna... Ah, aspettate. Mi servono di note le cavole di... Di scale. Perfetto. Ci sta capendo più nulla. Ci sta capendo nulla. Ti tirano. Cavoli. Non ci sta capendo più nulla. E slab non ce li ho. Perché c'ho la roba inutile? Anche la pan brodo, va. Oh, voilà. Tanto bello. Niente, ragazzi. Io si conclude qui. Se non l'abbia fatto, non l'abbia fatto. Vi ho completato tutto la salva. Speriamo quello che volete. E voi ditelo. Ciao, ragazzi. Ciao, ragazzi. Grazie.